Finalmente anche coloro che hanno difficoltà deambulatorie e motorie potranno accedere alla spiaggia grazie alla nuova passerella installata a Sassogna di Fano, che si allunga per 10 metri permettendo ai disabili di avvicinarsi alla battigia. Un progetto che nonostante le critiche rispetto ai tempi di realizzazione rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo per la città di Fano. Questo è un segnale che noi abbiamo dato e abbiamo contribuito come associazione a GFH nell'acquisto di questa passerella insieme alla PM Marche. Riteniamo che a prescindere da quando è arrivata è che è arrivata ed è un momento estremamente importante perché è l'espressione del dare dignità alla persona che ha un bisogno o altro. Credo e penso fortemente che una città si possa definire civile, laddove si possa misurare il perseguimento di un beneficio e un beneficio comune. In questo caso con la realizzazione di questa passerella di una spiaggia pubblica sicuramente e certamente è l'assessualità con la mobilità della persona di famiglia da Torelli, l'associazione, l'associazione di unicoli figli, come la persona presidente a Limi e anche a Muska, e l'associazione Paraceletici Marche, io mi rappresento, di cui sono referente e componente, quello che stiamo dando una democrazione ampia di quanto un po' fa non possa essere accessibile anche maggiormente civile. Un progetto che non deve interessare unicamente la spiaggia libera ma che intende sensibilizzare anche i gestori degli stabilimenti balneari privati. Si debbano dotare anche loro di questi tipi di passerelle, chiaramente la nostra associazione e altre associazioni si interesseranno per poter partecipare, noi ci siamo, siamo presenti però bisogna che queste passerelle vengano prese da questi concessionari per dare in modo alle persone con disabilità di arrivare perlomeno vicino all'acqua. Una collaborazione, quella tra comune e associazioni che è destinata a continuare con l'obiettivo di rendere fan una città aperta all'uguaglianza e alle pari opportunità. Siamo molto orgogliosi di aver fatto questa opera perché è un inizio di un percorso che speriamo nei prossimi anni di poter proseguire, mi prenderò l'impegno di sistemare questa passerella adattandola meglio alle esigenze di tutti loro, siamo molto orgogliosi come amministrazione anche di aver iniziato questa collaborazione che non è iniziata con quest'opera ma stiamo già lavorando su altri progetti che il comune sta facendo e che noi sottoponiamo sempre alla visione di varie associazioni oltre la GFH per appunto avere consigli e delle migliorie. Dei progetti che loro hanno visionato per esempio sono la Darsina Borghese, un progetto di riqualificazione di tutta quell'area e anche la nuova piscina comunale che verrà fatta in zona aeroporto. Grazie. Grazie. Grazie.